buongiorno ragazze giorno di reclusione numero 8 io sto per fare una lavatrice per bebiale perché veramente ho bisogno di farle una lavatrice ha sporcato un po di cosine in questi due giorni quindi faccio una mega lavatrice tutte di cosine sue sono sincera oggi non volevo vloggare perché non sono stata tanto bene stanotte però adesso va un po' meglio ho detto vabbè non me la sentivo di lasciarvi un giorno senza piccolo vlog so quanto ci tenete quindi insomma visto che sto meglio e poi sono contenta che sta per tornare Ricky che domani sarà di riposo sarà un po' con noi quindi sono felice poi stasera torna anche Federico insomma quindi mi riprendo un po' facendo questo vloghino tra l'altro dopo devo farmi anche doccia e capelli perché devo lavarli non sono sporchissimi però io li lavo solitamente ogni due giorni e quindi niente bando alle ciance io farei questa mega lavatrice perché mi devo muovere e quindi ragazzi allora mi avete vista pasticciare finalmente la mia agenda questa qua che avevo preso con i punti del PAM per le ricettine e ho scritto una ricettina che farò o dopo o domani che ho visto dal vlog di Chiaretta che saluto e mando un bacione grande, Chiaretta Alfredo le tre cine brioche quindi spero di riuscire a farle già oggi così le ho per domani se no le facciamo domani insieme oggi o domani le voglio provare a fare spero mi vengano e niente Alessandra ancora riposa anche Ricky adesso devo stendere solo che sto aspettando perché ho paura di fare rumore quindi comunque devo stendere pensare a cosa fare per cena però è abbastanza una giornata noiosa oggi quindi veramente non so cosa filmarvi non proprio zero ispirazione sempre più difficile perché fare vlog tutti i giorni col fatto che si deve stare a casa è complicato e sono anche un po' amareggiata da certi commenti ragazze veramente mi dispiace sinceramente di sentire dire certe cose a una certa ovviamente uno ragazze non so più cosa dirvi nel senso che tante di voi mi dicono ma perché non fai la spesa online ragazze se non la faccio ci saranno dei motivi noi al momento utilizziamo i ticket per fare la spesa finché ne abbiamo perché per fortuna il lavoro di Ricky ci passa anche dei ticket quindi utilizziamo quelli e facendo la spesa online non li possiamo utilizzare quindi dobbiamo andare per forza al supermercato non è che mi sono impazzita e ho voglia di andarmi a prendere il virus al supermercato cioè però vabbè ragazze giustamente voi queste cose non le sapete ma sappiate che se uno fa delle cose non è perché è incosciente ma perché ci sono delle motivazioni dietro sempre e comunque quindi ricordatevi di non giudicare sempre solo dalle apparenze o dai vlog perché sbagliate sbagliate alla grande e e poi appunto un'altra ragazza mi ha detto che che sono poco gentile perché ho detto cos'è che ho detto ah che non che non penso a quando appunto mi voglio tenere nel cibo ma non perché me lo dite voi ma perché è una mia scelta non vedo nulla di offensivo in questa frase nel senso che è giusto che sia così io non faccio un qualcosa perché ho le critiche o anche senza critica perché me lo scrivete voi il vostro è un parere il vostro è un vostro punto di vista ma sono io che decido nel momento in cui voglio deciderlo se mettermi a dieta o mangiare meglio o continuare a mangiare male è una mia scelta cioè non ho detto niente di offensivo non ho detto né offese né nulla però è quello il discorso che si va sempre a come dire cercare il pelo nell'uovo per lamentarsi per criticare nonostante il momento in cui dovremmo essere tutti uniti si va a guardare veramente la virgola sbagliata la virgola detta in un altro modo ragazze non ce la fate a farmi passare per maleducata perché io sono sempre stata gentile nei miei vlog e quando ho risposto a tono era perché c'era da rispondere a tono perché c'è stata una frase detta male una frase cattiva nei miei confronti quindi ovviamente replico cioè non è che devo star zitta e farmi insultare da voi ragazze cioè che pretese che avete veramente però ovviamente mi riferisco solo a chi si comporta in questa maniera e non a tutti però invito a chi commenta per la prima volta a non commentare per la prima volta solo per criticare ma magari per apprezzare anche i miei contenuti visto che cerco di tenervi compagni a tutti i giorni e non ho ammazzato nessuno cioè ragazze vado a fare la spesa a piedi perché come ben sapete non ho la macchina e ve lo ribadisco per la 400 milionesima volta perché è così insomma voi siete accanite sul fatto che non ho la macchina come dico sempre ironicamente compratemela voi che così ho la macchina detto ciò detto ciò niente io adesso aspetto che si sveglia almeno a righi così stendo la lavatrice e poi vediamo cosa preparare per cena arriva la bananina am è buona allora come sempre ci ritroviamo al momento al momento al momento struccaggio uso sempre la mia acqua micellare Nivea che spero finisca presto perché ho l'altra mia preferita lì nell'armadietto delle scotte che mi attende con ansia come io attendo lei non vedo l'ora di utilizzarla non sono truccata e oggi però do una una pulita al viso prima di mettere la crema lo faccio sempre perché vedete comunque qualcosa esce sempre soprattutto quando capita che mi strucco un po' di corsa ragazzi oggi è stato un vlog piuttosto noioso ma non ho fatto veramente nulla di che quindi veramente non sapevo proprio che cosa filmarvi però comunque anche se è un vlog chiacchiericcio so che apprezzerete la compagnia domani invece essendo che è tornato Federico domani farò la ricettina di cui vi parlavo delle trecine brioche adesso vedrò se fare la forma di trecina o se fare la forma proprio di brioche adesso vediamo un attimo magari ne faccio qualcuna a forma di trecina e qualcuna a forma proprio di briochina vediamo se mi vengono comunque e così insomma facciamo qualcosa di diverso facciamo una ricetta insieme poi cerco di trovare il tempo anche visto che domani c'è Ricchi a casa sono felicissima cercherò di dipingere anche le famosissime satuine di sale con la pasta di sale che ho fatto con Federico perché tra una cosa e l'altra tra il fatto che è nato dal papà eccetera non siamo più riusciti a finirle e quindi quindi ci tengo insomma magari domani le faremo vado a mettere la mia crinina aiuto questa qua ormai la conoscete in realtà mi piace sia questa che questa qui della Dr. Andrew Whale Origins scusate che era un campioncino che mi avevano mandato super idratante veramente molto buono è un profumo molto particolare che ricorda un po' il rosmarino è un profumo tutto suo veramente mai mai sentito invece anche questa mi piace molto però indubbiamente a livello di come dire di di inci di ingredienti è sicuramente meglio quella lì però quella è idratante invece questa è una crema proprio notte quindi spolmiamo un po' ovunque ne metto un po' perché sono anche un pochettino adesso erano due sere che non la mettevo quindi abbondiamo e quindi niente questi sono i progetti di domani poi dovremmo fare anche un po' di scorta di cosine di Ale però adesso vedrò se Ricky diceva che voleva andare lui domani mattina diversamente ordineremo online senza utilizzare i famosi nostri ticket vediamo un attimo anche perché se si riesce a risparmiare qualcosina preferiamo ovviamente non è che siamo ricchi insomma magari ok stavo pensando se avevo qualche novità da raccontarvi ma ragazzi siamo sempre a casa quindi non ho novità da dirvi c'è una cosa che amo è mettermi la crema prima di andare a letto proprio il profumo mi fa mi fa addormentare bene insomma quindi soprattutto quelle con i profumi che mi piacciono molto bene io mi lavo le manine viene di crema domani devo fare anche un po' di pulizia vediamo con Ricky che video farvi sicuramente anche il vlog perché appunto farò questa questa ricetta ok ragazzi io vado a nanna vi mando un bacione e ci sentiamo presto ciao